Questa è Robben Island, la prigione numero uno del paese. E dove teniamo reclusi Mandela e i suoi compagni? Poi mi occuperò del peggior terrorista che questo paese abbia mai visto. La tua gente non avrebbe dovuto impugnare le armi contro di noi. La città di risordi e le nostre preghiere. La lezione di un uomo. Aspetto da vent'anni che la sua gente venga a parlarmi di pace. Che ha cambiato il corso della storia. Io mi batto per un mondo migliore. Sono ideali per i quali uccideresti. Sono ideali per i quali morirei. Il colore della libertà. Lunedì alle 21.15 su Cielo. Il colore della libertà.